Camerino, città ducale, dove ancora si respira la storia della breve ma significativa signoria dei Davarano. Con la corsa alla spada e palio nel periodo dei festeggiamenti in onore del patrono San Venanzio, 18 maggio, Camerino rievoca una gara della quale si accenno negli statuti comunali che mette in palio, simbolo della vittoria, la spada contesa dagli antichi terzieri della città. Si rievoca l'epoca di maggior splendore della signoria e l'intera città torna ad essere piccola capitale dello Stato, riassaporando la bellezza delle sue tradizioni e della sua storia anche grazie alla bellezza del centro storico dove la corsa alla spada si svolge. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!